Nel nord del Portogallo è stato costruito il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, 516 metri a 175 metri di altezza nella gola in cui scorre il fiume Paiva fra le montagne rocciose all'interno dell'Auruca Geopark. Una struttura fatta in griglie metalliche che permettono di non perdersi neanche un briciolo del panorama, un'emozione forse non per tutti. I primi a camminare su questa struttura immersa nella natura sono stati gli abitanti della zona, compresa la sindaca che spera il ponte dia una svolta all'economia locale devastata dal Covid-19. Questa attrazione è fondamentale per far risorgere il turismo nella zona, dice Margarida Belemma. A RUCA 516 batte il record per il ponte sospeso pedonale più lungo detenuto dal 2017 dal ponte Charles Cunen di Randa nelle Alpi Svizzere.